Con D-Max e il 6 nazioni, le brand partnership di Discovery Media hanno fatto meta. Un'operazione costruita intorno a un pacchetto grafico totalmente a tema rugby, per far entrare clienti e pubblico veramente nella mischia. Abbiamo offerto ai clienti di partecipare alla campagna sin dal lancio dell'evento, con la sponsorizzazione di Promo Spot on Air e dell'engagement online, dall'app Rugbizzati al concorso per trovare il nostro immischiato speciale. Abbiamo presidiato in verticale i programmi in avvicinamento al torneo, con nuove forme di visibilità customizzate sull'evento, come lo sponsorship bumper, un billboard multibrand, il rugby break, una telepromozione a tema rugby e i frame spot passione ovale. Entrando sempre più nel cuore dei nostri tifosi, abbiamo fornito un product placement indispensabile al nostro talent rubio, il cacciatore di tifosi, in giro per l'Italia con un van Peugeot per evangelizzare il paese. Entrando nel vivo del live, abbiamo iniziato a fare il conto alla rovescia con degli hide and countdown sponsorizzati. Abbiamo dato ai nostri clienti visibilità nelle attività social e digital del canale durante le partite e due posizioni uniche nel cuore del match, con Live Elevator e Split Squeeze. E durante la settimana abbiamo giocato il nostro terzo tempo, continuando a parlare di rugby e curiosità attraverso l'innovativo strumento delle Rugby Curiosities, una forma evoluta di domanda e risposta che declinava le tematiche dei clienti al mondo del rugby. Con l'operazione D-Max a sei nazioni, le brand partnership di Discovery Media hanno vinto la sfida della prima volta live e di un evento sportivo di tali dimensioni su un canale Discovery. Un successo di ascolto già dalla settimana d'esordio e di mercato, con una varietà di clienti che, insieme a noi, hanno formato una squadra imbattibile. Un successo di ascolto già